Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo tornati con una nuovissima live reaction, siamo con Brescia a Roma e tutto pronto, mancheranno tre minuti di gioco. Grazie mille a tutti per il quals partita per le live reaction e... Siamo tutti benissimo e speriamo di... Allora, innanzitutto ci fanno il post partita qua. Sì, che sono uscito, speriamo insieme a un smadone. Questa è la tornata allentatore. Perché tanto... Dobbiamo come va a finire quando è così e niente. Sempre forza lui. Dai. Bruno, dai! Oh! No! Porco giù da vicino a l'Otogolo. Io no, io no. Ah, non c'è, c'è. Sì, diciamo... Ah, beh, avanza a cagarello. Uno più forte è la tua gola. I sensori della Roma di rientrare... Oh! Carles! Carles! No! Io vado! Che tirano sul primo come si tratta? Carles! Carles! Vediamolo? Sì. Il segnimento è giusto, valla. Bella valla dei ragazzi. Praticamente hai avuto la possibilità di fare questo intervento. Valla di a me è meglio. Colano, se non segni questa punizione... Vaffa merda! Io l'ho detto, eh! Io l'ho detto, tu che dici? No! Ma chi gli ha preso? Dova tirarlo come sempre! Che cazzo tira sul primo palo? Eh, 0-0, trama! Finita! Che partita di merda! No! E' riniziato il secondo tempo! Grandissima inquadratura! No! No! E' entrata! E' entrata! Riccola! Andiamo! Riccola! Segnacarlic! Dagli! Nicolino! Sono stato più brutto della storia, ragazzi! C'è, 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 c'è... 2 a 0, e speriamo partita... straccio di canale qui nata che sia da due grandi talenti al nostro calcio entrano ragazzi il triplo cambio per la roma entrano via gianniolo gianniolo dei veloci a ben zaniolo dei venti minuti di arre dove dove si è maniato le esplode e perotti intanto non finire da maniare quindi dai se ne saranno accorti mentre mani a mangiare non facciamo gli infatti dico c'è dai cazzo e andiamo io l'abbiamo fatto e la rica volete di fila almeno questa abbiamo abbiamo giocato veramente bene mancano due minuti più recupero stiamo in piena live reaccia infatti penso salutiamo anche qui che metteremo una piccola parte di questo post partita e allora parti a parti parliamo della partita intanto prima ma tanto 3 a 0 no partiamo subito con 3 a 0 la roma partita molto tranquilla nel primo tempo abbastanza sofferta cioè non ci sono state tantissime azioni nel secondo tempo ma c'è grande reazione della roma che fa tre gol con un battito di punizione decente ad oggi almeno uno su quede quelle due l'avremmo segnato perché due no ma un coloro per coloro per vecchio il coloro per vecchia avrebbe segnato due anche la seconda concluto abbattere però palla per gioco palla per gioco lo scavalca palo che sei maniato il ragazzo che sei maniato e di una donna questo dovevi fare sempre forza roma da ieri da ieri da ieri da ieri da ieri tanti like domani ore 14 live reaccio sempre forza roma dai bella rega bella grazie a tutti